Ciao a tutti, siamo a Milano al parco Trenna, siamo appena stati all'Expo, ovvero al cantiere dell'Expo dove un milione di metri quadri di ex terreno agricolo verranno destinati a questa mega opera faraonica che in realtà durerà appena qualche mese. Interessante vedere come sono state destinate delle vasche per le zone relax dei visitatori dell'Expo. Quello che mi viene da chiedere è ma di queste vasche poi cosa se ne faremo? Forse le rane e le zanzare le abiteranno. Insomma, cosa dire, questo Expo poteva essere meno impattante per il territorio e più utile per i cittadini se fatto riutilizzando le strutture già esistenti. Grazie a tutti.